Una costellazione di satelliti made in Italy intorno alla Luna dal 2023 è il progetto di un'azienda torinese che vuole fornire alle prossime missioni lunari dei servizi di comunicazione con la Terra. Sentiamo Andrea Bettini. Nei prossimi anni sono pianificate decine di missioni verso la Luna, sonde astronauti in prospettiva persino turisti. Affollamento crescente e anche maggiori necessità di comunicare con la Terra. Un'azienda italiana, la Argotec di Torino, intende inviare dei piccoli satelliti in orbita lunare per fornire questo servizio. Consentiranno a tutte le missioni governative e anche private, sia con lander, con rover sulla superficie lunare o anche attorno alla Luna, di comunicare verso la Terra, attraverso comunicazioni di tipo dati, video e anche voce. Il progetto è partito quasi tre anni fa e si basa su sistemi già sviluppati internamente per altre missioni spaziali. La costellazione in orbita lunare si chiamerà Andromeda. Per funzionare avrà bisogno di almeno una dozzina di satelliti di una cinquantina di centimetri e di uno più grande che farà da ripetitore. I tempi sono nel 2023 di cominciare a fare già un primo lancio con almeno due satelliti di piccole dimensioni e subito dopo altri satelliti seguiranno. Quindi nel 2025 vogliamo che questa costellazione sia già più o meno completata in modo da poter servire a tutte quelle missioni tipo Artemis della NASA e altre missioni dell'Agenzia Spaziale Europea che arriveranno proprio in quella data in orbita lunare. La stessa tecnologia si potrebbe usare anche intorno alla Terra. Potrebbero aumentare anche le capacità di comunicazione stessa per applicazioni terrestri. Classico esempio proprio in questo periodo del Covid-19 potrebbe essere molto utile ad esempio per effettuare quella che viene chiamata la telemedicina.